Ciao, Pergem Evolution è la biografia più aggiornata sui Pergem, scritta dai curatori di PergemOnline.it, fan site attivo dal 2001 e punto di riferimento sia in Italia che all'estero per chi vuole tenersi aggiornato sulla band di Seattle. In occasione dei 25 anni di carriera dei Pergem abbiamo cercato di scavare a fondo nella loro storia e di descrivere la loro evoluzione sia artistica che umana. Un lavoro lungo, impegnativo che ci ha portato a queste 472 pagine, che sono una cronistoria fatta di interviste, dichiarazioni, analisi di dischi, tour e molto altro. Non mancano preziosi contributi di ex membri dei Pergem, come Dave Krusen e Jack Kyrons, ed i personaggi noti del panorama della scena di Seattle come Mark Arm, leader dei Madonei, e Richard Suverud, collaboratore da lungo tempo di Jeff Heyman, il bassista dei Pergem. Con Pergem Evolution abbiamo cercato di raccontare la storia della band senza soffermarci troppo sui primi anni di attività, quelle che tutti conoscono, con le folli arrampicate di Eddie Vedder e tutto l'hype che girava intorno alla band nel triennio storico memorabile 92-94. Piuttosto abbiamo cercato di partire da lì per dare una visione di insieme di quella che ormai si può considerare a tutti gli effetti la band più importante uscita dagli anni 90 90, o perché no, sopravvissuta agli anni 90. Pergem Evolution si rivolge sia ai fan della prima ora, a quanti li hanno conosciuti negli ultimi anni, ad esempio dopo aver visto il docufilm di Cameron Crowe Pergem 20 del 2011. Ci teniamo però a dire che è un libro che si rivolge non solo ai fan sfegatati della band, come lo siamo anche noi, perché ci sono davvero tanti aneddoti interessanti e poco noti che credo interesseranno anche chi li conosce solo superficialmente e vorrebbe approfondire la loro storia. Ad esempio, vi piacerebbe scoprire cosa è accaduto durante il primo incontro tra Stone Gossard e Jeff Heyman, oppure quello che si sono detti è di vedere Bruce Springsteen in uno dei loro tanti incontri? Bene, in Pergem Evolution c'è questo e tanto tanto altro. Per quanto ci riguarda, nel corso degli anni abbiamo avuto modo di incontrare varie volte i componenti della band. Mi piaccio ricordare una cosa che ci disse Eddie al termine di un suo concerto solista di quattro anni fa ad Amsterdam. La musica aggrega le persone, le fa unire, è successo a tanti miei amici, è successo ai genitori dell'ex compagna di Glenn Hansard che si sono conosciuti nel 78 proprio a un concerto di Bruce Springsteen. Ecco, noi personalmente ci auguriamo che questo libro che, Pergem Evolution, possa far incontrare tante persone che hanno in comune la stessa passione per questa band che abbiamo anche noi. Grazie.